Musica Carissimi utenti buongiorno Qui collegati dallo stadio di San Gennaro Vesuviano in provincia di Napoli E' il derby del Vesuvio tra la squadra della Polisportiva San Giuseppe e la San Gennarise Alla mia destra praticamente c'è Ambrosio, dirigente della Polisportiva San Giuseppe Alla mia sinistra c'è Giuliano, il direttore sportivo della San Gennarise Davvero un grande derby perché tutte e due le squadre stanno conducendo un ottimo campionato In prima categoria Una lunga storia dove in realtà davvero le due squadre hanno un percorso storico famoso, eccezionale Proveniente praticamente sia l'una dall'interregionale che l'altra dalla promozione Quindi davvero hanno un percorso calcistico storico Partiamo prima dagli ospiti Giuliano, davvero quest'anno in prima categoria voi volete far vedere e mostrare lo spettacolo Quindi puntate soprattutto su giocatori che in realtà hanno delle doti tecniche elevate Ecco, puoi esprimere un attimo un giudizio su questo percorso calcistico, prego Ecco guardi, noi quest'anno puntiamo molto sui giovani e sui nostri compaesani Non a caso in squadra contiamo più di 12 elementi san gennaresi E in più ci sono elementi storici della san gennaresi tipo Tiziano Suave, tipo Nappi, tipo Falco Che sono ragazzi che militano con noi da circa tre anni Anche se a stagioni alterne comunque sono san gennaresi di adozione Quindi proveremo a dire la nostra in campionato Fermo restando che ci sono squadre corazzate tipo appunto la san giuseppese dell'amico Tonino Ambrosio La Virtus Ottaviano e la san giovannese che non a caso ci procedono in campionato Che sono squadre che sono state allestite per vincere il campionato Ecco Ambrosio invece per quanto riguarda la polisportiva San Giuseppe Una squadra che in realtà in un certo senso anch'essa mira ad un obiettivo in realtà a lungo termine Di poter giustamente controllare il campionato e semmai di poterlo vincere Vinciamo il campionato, tanto ti guadagnate Abbiamo confermato i soliti i nostri, il capitano Palma, il centromante di Pagano, Giacomo Rea Quest'anno sono venuti parecchi nuovi tipo Rastiello, Giovanni Cutolo Che sono erano ex giocatori della san giuseppese dell'interregionale Abbiamo preso alcuni della boschese tipo Cirillo, tipo Panariello Pagano, Diego Pagano, lo stesso Mautono che viene dalla Scafatese Poi già l'anno scorso con noi abbiamo il bomber della Pietra Che purtroppo sono tre partite Che è l'ultima partita che ha fatto quando vincere a Napoli a Pianura Tre partite ha fatto nove gol Bene bene, ecco davvero Diciamo che oggi comunque qui è derby In realtà è un derby come voi avete già sostenuto con i giocatori che avete In realtà è un derby davvero vesuviano Secondo lei in campagna questo è un vero derby Cosa ne pensa rispetto agli altri derby? Ecco guardi quello che posso pensare io Che oltre ad essere un derby croccistico Per noi è un derby personale Ma prima di tutto è un derby di amicizia Perché non a caso noi oggi giochiamo fuori casa Ma giocano lo Scipione Pignatelli di San Gennaro vesuviano Questo giusto per rendere l'idea dell'amicizia Che lega la società san gennarese alla san giuseppese Secondo lei qual è la sua opinione? E' vero questo qua, è vero Noi ringraziamo Aniello Giuliani Che in prima persona si è adoperato per farci giocare Questo qua in attesa che a San Giuseppe Venga ristrutturato lo stadio comunale E speriamo che sia una bella partita Soprattutto all'insegno dell'amicizia Cioè chiaramente agonisticamente ognuno vorrà vincere E speriamo in bene che risolva Io spero per me, l'amico mio spero per il San Gennaro Speriamo che sia soprattutto una bella partita Adesso praticamente giustamente Secondo lei Giuliano Voi effettivamente avete costruito Perché siete ben posizionati in classifica Giusto? Siete giustamente quarti in classifica Quindi siete nella zona playoff In realtà voi siete soddisfatti di questo percorso calcistico In questo periodo prima del mercato di dicembre? Sì, infatti pensiamo di non intervenire sul mercato Perché i ragazzi che sono con noi Abbiamo oltre ai 18 che oggi saranno qui presenti sul campo Ci sono 4 infortunati Due di loro andranno in tribuna Per cui il nostro organico è più che completo Volevo approfittarne per ringraziare anche L'attuale amministrazione comunale In prima persona il sindaco Antonio Russo Con il vice sindaco Carmine Allocca Che quest'anno sono entrati nella nostra grande famiglia E ci stanno dando una mano economicamente E effettivamente a livello di collaborazione Per portare avanti questo campionato E contiamo per l'anno prossimo Per il centenario della San Genarese Di allestire una squadra Che possa competere tranquillamente Nel campionato di promozione Bene, ecco Secondo lei in pratica Voi siete soddisfatti di questo campionato La vostra squadra? Adesso sì Noi abbiamo fatto 5 partite 5 vittorie Un pareggio nel recupero Che abbiamo sprecato Due punti L'abbiamo gettato al vento Vincevamo fino a 20 minuti alla fine Vincevamo Dovevamo raddoppiare Poi abbiamo avuto un gol beffa Che ce lo siamo fatti più noi che loro Comunque Fino adesso va tutto bene Poi vedremo Se c'è bisogno di pigliare qualche altra rinforza Qualc'altra cosa A dicembre valuteremo la situazione E vedremo Spero in meglio Questo girone Secondo lei è un girone equilibrato Come lo considera lei? Tenendo presente che negli ultimi anni Comunque La prima categoria Non è più quella di una volta Possiamo dire tranquillamente Che è un girone Abbastanza equilibrato Fermo restando Le ripeto Le prime tre classificate Che non a caso Sono nei primi tre posti in classifica Di conseguenza Proveremo a fare lo sgambetto All'amico Tonino Ambrosio Oggi Se ci riesce bene Altrimenti procederemo tranquillamente Per il nostro percorso Senza problemi Ecco Continuando sul discorso Sulle conclusioni di Giuliano Alla fine Secondo lei Come considera questo girone? È un girone abbastanza equilibrato Stanno diverse squadre Lo stesso Volla Che ha allestito una squadra Per vincere il campionato Adesso sta appannando Un poco Anzi Oggi proprio C'hanno una partita difficile Con l'Ottaviano E non lo so Come andrà a finire Bene Ringraziamo La San Cennarese E il San Giuseppe Grazie per l'attenzione Arrivederci alla prossima intervista Grazie per l'attenzione